Giornata spezzatino con la vetta della classifica che per un turno se ne starà alla finestra guardare gli altri giocare in attesa di tornare in campo. Discorso che vale per il campo basso di Cudini che osserverà un turno di stop così come ha richiesto di fare l'Alba Longa che sarebbe stata l'avversario di giornata dei Rosso Blu, avversario già fermo da due settimane e con il recupero di Giulianova già fissato per l'11 novembre prossimo. Una settimana i box per una squadra così in forma non è il massimo, ma tant'è. I Rosso Blu rimarranno in città per poi riprendere la settimana tipo. L'auspicio di tutti è che queste interruzioni di percorso possano essere più sporadiche possibili in ragione proprio del ritmo forse nato che il campo basso sta imprimendo al suo campionato. I Rosso Blu rimarranno virtualmente primi in attesa di sapere la data del recupero contro l'Alba Longa. I ragazzi di Cudini potrebbero anche rivivere i fantasmi dello scorso primo marzo quando la squadra, ma tutto il movimento della LND, furono stoppati per l'emergenza sanitaria. Qui, per fortuna del campo basso e di tutti gli addetti ai lavori, lo stop è temporaneo. Una settimana fermi prima di rituffarsi nelle competizioni. In ordine di classifica non giocheranno né il notaresco contro l'Aprilia né la Recanatese contro il Rieti. Spazio a Castelnuovo-Montegiorgio con i padroni di casa pronti a stupire ancora dopo i nove punti in cinque partite da neopromossi in quarta serie. Di fronte a Montegiorgio alla ricerca di conferme dopo aver stoppato il notaresco una settimana fa. Castelnuovo-Montegiorgio verrà diretta dal signor Catanzaro di Catanzaro. A seguire il Tolentino contro il Pineto, gara a porte chiuse, certamente interessante. Il Pineto è fermo dallo scorso 16 ottobre e sicuramente fra le formazioni più deludenti di inizio campionato. Candidata al vertice ma molto arrancante nei primi turni. Ritmo regolare per un Tolentino che vuole regalarsi un'ulteriore soddisfazione. Tolentino-Pineto sarà diretta dal signor Di Loreto di Terni. Dopo le quattro scopole di Campobasso il Matese di Corrado Urbano si appresta a ricevere il Castelfidardo. La squadra campana si confronta con un avversario che sulla carta potrebbe essere alla portata. Nelle fila marchigiane occhio all'ex attaccante del Campobasso Daniel Giampaolo, già autore di due gol in cinque partite. Matese-Castelfidardo sarà diretta dal signor Picardi di Viareggio.